Via libera alle prenotazioni per le vaccinazioni anche agli over 70. La regione apre la piattaforma anche agli appartenenti di questa fascia d'età finora esclusi, ma nelle prime ore si è registrata una falsa partenza. Tantissime le segnalazioni di disservizi da parte degli utenti. Molti non sono riusciti ad ottenere il codice di verifica sul cellulare, indispensabile per completare la procedura. Anche il Codacons ha denunciato l'inefficienza del sito regionale. Dopo il caos sui lotti AstraZeneca, riprese intanto regolarmente alla mostra d'oltremare le vaccinazioni, tanti in fila a prevadere la fiducia nella scienza nonostante il battaggio mediatico degli ultimi giorni. Il mio pensiero non sono preoccupato, veramente. È una cosa buona per noi, per tutti. Sono contenta perché tutto funziona alla perfezione, veramente. L'ho fatto il primo e il secondo, poi l'ho fatto il secondo e non ho sentito niente proprio come normale. Ma i dati sanitari sono preoccupanti. In Campania tutti gli indicatori sono in peggioramento. Aumentano contagi, morti e ricoveri. Nell'ultimo bollettino dell'unità di crisi sono 2940 nuovi positivi, con il rapporto tra teste e infetti che supera il 10%, superata la soglia psicologica dei 300.000 contagi nella nostra regione da inizio pandemia. Nel report dell'unità di crisi anche 23 decessi. Si annuncia un fine settimana blindato nelle città per rispettare l'ordinanza di chiusura della regione ed evitare assembramenti in zona russa. Già in queste ore è superpresidiato il lungomare di Napoli. Controlli e verifiche da parte delle forze dell'ordine nell'ambito del piano di sicurezza predisposto dalla prefettura.